Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, schiarite ma con velature. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite ma con velature. In montagna, nubi sparse con locali piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, nubi sparse con locali piovaschi. In montagna, piogge e temporali anche forti. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, nubi sparse con locali piovaschi.